inizieremo un viaggio insieme in tutta italia dal nord al sud alle isole ogni volta vi porto con me a scoprire un vitigno una denominazione un territorio una cantina e tutto quel bagaglio di emozioni che sono racchiuse in ogni calice di vino vi aspetto con me nella nuova rubrica di fisar degustiamo assieme che verrà pubblicata nei canali social di fisar nazionali vi invito a seguirci perché io non vedo l'ora di iniziare insieme a voi a presto e degustiamo assieme noi fisar tutto il nostro mondo